E' arrivata qui che non camminava, ora col deambulatore ma cammina. Se poi è da chiudere per ritornare a stare dove era prima, nella c***a fino al collo, e allora vuol dire che ci si merita questo. Sono in attesa del pronunciamento del TAR, i familiari dei 13 anziani, alcuni non autosufficienti, che risiedono in questa villa di Campolucci. Sette i badanti assunti, due di loro adesso sono indagati per esercizio abusivo della professione. La struttura dovrebbe chiudere e gli anziani ricollocati, ma al di là di come andrà a finire, questa vicenda punta i riflettori su un welfare che evidentemente non dà risposte adeguate. Nella zona sociosanitaria retina, ad esempio, le quote sanitarie per gli anziani non autosufficienti, che quindi hanno diritto ad un posto in una RSA, sono soltanto 299. Allora, le quote sanitarie sono disciplinate da una normativa della regione toscana, 52,32 euro al giorno, per la condizione di non autosufficienza stabilizzata. In 40 gli anziani in lista di attesa, ma sono coloro che hanno già avuto l'ok dalla commissione multidisciplinare. I criteri verranno presto modificati, ma i posti sono sempre gli stessi. Cambia proprio il sistema di accesso nell'RSA, che ad oggi viene fatto, gestito completamente dai servizi sociosanitari, con la delibera 995 della regione toscana, invece il cittadino sceglierà liberamente dove entrare una volta che ha avuto l'autorizzazione dalla ASLE di residenza a spendere il proprio titolo di acquisto sanitario. Circa 500 i cosiddetti ricoveri temporanei, nei centri di urni invece i posti a disposizione dell'ASLE sono soltanto 54. E poi ci sono i contributi alle famiglie, ma se il reddito supera gli 8 mila euro all'anno si parla di pochi spiccioli. Oppure il servizio di assistenza domiciliare diretta, prestato proprio presso le abitazioni, molto spesso vengono attivate ore di assistenza domiciliare. OOS o ADB forniti da una cooperativa sociale che ha avuto in affidamento, a seguito di procedura di gara, il servizio. Una coperta corta, insomma, che viene sostenuta con 1 milione e 800 mila euro all'anno, messo a disposizione dal Fondo per la non autosufficienza. Lo strumento alternativo ci sarebbe, si chiama comunità familiare ed è disciplinato da un regolamento regionale del 2008, ma riguarda soltanto gli anziani autosufficienti.